Musica Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale Questione morale, scenari politici tra i temi caldi dell'ultima puntata di Mobidic Ospiti Antonio Di Pietro e Michele Iorio, i due esponenti politici hanno anche annunciato la loro candidatura alle prossime regionali Sentiamo Interessante confronto a distanza nell'ultima puntata di Mobidic tra l'ex ministro Antonio Di Pietro e l'ex governatore della regione Michele Iorio Tanti temi affrontati sanità, infrastrutture, lavoro e futuri scenari politici legati alla questione morale che sta coinvolgendo la classe dirigente molisana Antonio Di Pietro ha sostanzialmente difeso il governo Frattura anche se su alcune questioni non sono mancati distinguo in particolare secondo l'ex PM bisogna insistere con il governo centrale per riavere i 200 milioni di euro per l'autostrada Termoli San Vittore da lui ottenuti quando era a capo del ministero delle infrastrutture sulle vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo alcuni esponenti della giunta regionale l'ex leader dell'Italia dei valori non ha affondato come è abituato a fare mentre Michele Iorio ha chiesto a Paolo Frattura di fare luce in consiglio regionale non solo sulla vicenda Elcom ma anche sulla Biocom che lo vede direttamente coinvolto io credo che una volta per tutte il presidente della giunta su questa delicatissima questione deve deve dare delle risposte finora ha dato delle risposte evasive se però c'è un procedimento un'indagine su questa questione vuol dire che qualche cosa va chiarita e va chiarita anche subito perché non ci può essere l'ombra di un sospetto così grave nei confronti di un presidente di una regione e far finta di niente io anche lì come in tutte le altre cose mi auguro che si possa chiarire tutto però non si può non parlarne ecco sul dato sul fatto politico perché far finta di niente credo che irrita molto la gente perché quando si lanciano dei sospetti e quando ci sono poi delle cose in corso soprattutto indagini giudiziarie io credo che rivestendo ruoli di tale importanza la prima cosa è chiarire subito il suo punto di vista e dirci che cosa sta succedendo al termine del confronto entrambi gli esponenti politici hanno di fatto annunciato la loro candidatura alla guida della regione alle prossime elezioni se dovesse rispondere in politichesi direi non è ancora giunto il tempo per andare in pensione invece rispondiamo alla di Pietrese guarda io personalmente mi auguro che non ce ne sia la necessità ma se ci dovesse essere la necessità non sono uno che si tira indietro io rispondo questa volta alla di Pietrese allora cioè anche io ritengo che ancora non è arrivato il tempo della pensione io se sarà necessario sono pronto ma voglio vedere che ci siano le condizioni perché la competizione possa essere assolutamente vinta perché parto dal concetto che l'area dei moderati diciamo in questa regione è sicuramente maggioritaria il segretario provinciale del partito socialista di Isernia Pasqualino De Mattia è intervenuto sulla nomina da parte del sindaco Brasiello di due nuovi assessori esterni nomina ha detto De Mattia a nostro parere illegittima per violazione della legge del Rio che ha introdotto l'obbligo di riservare il 40% dei posti in giunta alle donne si tratta di una regola di diritto ha continuato il segretario provinciale socialista che garantisce la piena e paritaria rappresentanza politica e amministrativa e che non può essere elusa la sua violazione ha concluso comporta la nullità delle nomine e l'azzeramento dell'organo esecutivo il partito socialista chiede dunque a Brasiello il rispetto delle norme l'assemblea dei soci GAM ha approvato l'esercizio di bilancio 2014 con l'atto si ufficializza il passaggio di consegne tra l'amministratore unico dimissionario l'ingegnere Nicola Baranello e il successore indicato dalla giunta Giulio Berchicci lo ha comunicato il governatore Paolo Frattura la cronaca complice l'alcol tre giovani residenti in provincia di Isernia avrebbero abusato di una ragazza all'epoca dei fatti minorenne per questa storia risalente a un anno fa ma trapelata solo nelle ultime ore i tre rischiano il rinvio a giudizio e in questi giorni infatti sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini nei loro confronti è stato ipotizzato il reato di violenza sessuale di gruppo sentiamo Sergio Di Vincenzo i fatti risalgono alla Pasquetta dell'anno scorso si sono verificati durante la classica scampagnata organizzata da un gruppo di amici nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la solita grigliata di carne qualche scherzo in compagnia ma le bevande alcoliche hanno giocato un brutto tiro approfittando dello stato confusionale di una minorenne causato da qualche bicchiere di troppo tre ragazzi, tutti i maggiorenni avrebbero tentato di abusare di lei anzi, stando a quando emerso dalle indagini coordinate dal sostituto procuratore del Tribunale di Sernia Maria Carmela Andricciola si sarebbe andati anche oltre dopo averle dato un passaggio in macchina uno di loro ha abusato della ragazza l'amico ha tentato a sua volta di avere rapporti mentre il loro compagno faceva da palo poco dopo ci sarebbe stato anche un altro tentativo ma l'imminente arrivo di altri componenti della comitiva annunciato dal ragazzo non coinvolto direttamente nella violenza ha indotto gli amici a rivestirsi in fretta e furia e a rinunciare per un po' la storia è stata tenuta nascosta poi è arrivata all'orecchio dei genitori della presunta vittima che si sono così rivolti ai carabinieri i militari dell'arma nella massima discrezione hanno ascoltato la ragazza i tre indagati e le altre persone che hanno partecipato alla scampagnata in questi giorni dal Tribunale di Sernia sono partiti gli avvisi di conclusione delle indagini i tre giovani residenti tutti in provincia di Sernia devono rispondere dell'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una minore in tempi ragionevoli sarà fissata l'udienza preliminare per stabilire se gli elementi raccolti siano o meno sufficienti per andare a processo torniamo adesso a parlare della vicenda che ha portato agli arresti domiciliari l'ormai ex assessore regionale Massimiliano Scarabeo e il fratello Gabriele accusati di truffa gravata ai danni della regione frode fiscale l'operazione della guardia di finanza dopo domani i legali di Gabriele Scarabeo presenteranno ricorso a riesame a Campobasso contro la misura cautelare nei suoi confronti gli avvocati di Massimiliano Scarabeo invece faranno lo stesso in settimana lavorano da anni negli ospedali della regione ma si allontana sempre di più il diritto di essere stabilizzati i precari della sanità contestano i nuovi provvedimenti dell'ASREM e sono pronti a presentare un ricorso sentiamo Fabrizio Chionero Sanità regionale dilaniata dai tagli e poi ci sono i precari che da anni prestano servizio negli ospedali e non si sono visti ancora riconoscere i diritti maturati nel tempo una protesta rinnovata a Termoli per contestare le decisioni assunte dalla ASREM e impugnare i provvedimenti tanti lavoratori pronti a condividere la strada dei ricorsi stanchissimi di essere precari perché è una situazione veramente insostenibile soprattutto visto quello che sta succedendo ultimamente la ASREM non sta rispondendo a quello che noi chiediamo che è un nostro diritto anzi sta emanando dei decreti a livello regionale che vanno contro i precari che hanno dato una vita sono al servizio del cittadino per garantire i livelli assistenziali sono diversi gli aspetti affrontati per istruire i ricorsi e ribadire le rivendicazioni dei lavoratori in un contesto di grande incertezza adesso si vengono addirittura preferiti lavoratori di graduatorie approvate da altre regioni che quindi inevitabilmente passeranno davanti a loro il rischio concreto con gli ultimi atti adottati dalla ASREM di ritrovarsi addirittura fuori anche dalla possibilità di lavorare come precari questi ci sembra una profonda ingiustizia visto che dopo la nostra diffida dove sollecitavamo la ASREM a rivedere questi provvedimenti fortemente penalizzanti per i lavoratori e di fronte alla mancata risposta da parte della ASREM alle istanze dei lavoratori non ci siamo costretti a impugnare anche in via giudisiaria questi provvedimenti e per sostenere la causa dei precari della sanità molisana è sceso in campo anche il movimento difesa del cittadino tutte le occasioni in cui si tratta di difendere i diritti del cittadino i diritti della sanità ed in questo caso specifico i diritti dei precari i precari hanno un sacrosanto diritto che vanno assolutamente stabilizzati stiamo assistendo a chiusura di ospedali e a chiusura di reparti se non ci fossero stati i precari nella regione molise gli ospedali e i reparti avrebbero chiuso da decenni quindi i precari vanno assolutamente stabilizzati e tutelati sotto ogni aspetto il segretario regionale della UGL Nicolino Libertoni ha evidenziato ancora una volta il disagio che vivono i dipendenti della fisiomedica Loretana di Toro che non riescono a far fronte alle spese e alle necessità mensili e familiari è stato formulato un esposto alla procura di Campobasso inviato anche al prefetto, al governatore Fratture, all'assessore Petraroi all'ASREM e al ministero del lavoro e delle politiche sociali e per conoscenza al questore del capoluogo è sposto contro la fisiomedica Loretana per il mancato pagamento di 10 mensilità tra febbraio 2013 e maggio 2015 il tutto nonostante l'ASREM, si legge nella nota del sindacalista dell'UGL abbia saldato i bimestri dovuti 22 lavoratori hanno fatto ingiunzione di pagamento per 7 mensilità e aspettano le decisioni del giudice per il 10 luglio e il 19 giugno ha continuato Libertone, l'istituto di riabilitazione ha pagato solo febbraio 2013 a chi non ha fatto ingiunzione in asprendo il clima chiediamo dunque un intervento immediato per risolvere la questione continua la battaglia del Movimento 5 Stelle a Campobasso contro progetti di cementificazione pesanti le contestazioni espresse dal gruppo consigliare sulla riclassificazione variante urbanistica richiesta da una ditta nei pressi della rotonda del terminal in via Giambattista Vico sentiamo no netto e deciso del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle al comune di Campobasso alla riclassificazione variante urbanistica proposta da una ditta in via Giambattista Vico nella zona del terminal bus il piano di lottizzazione prevedeva nell'area uno spazio verde fruibile per i cittadini una villetta con alberi e panchine dicono i grillini a Palazzo San Giorgio invece un'anomalia che abbiamo riscontrato è che questa area è stata in realtà trasformata con una serie di passaggi nel settore urbanistico è stata trasformata in un parcheggio che andrà a servire un centro commerciale o delle attività che nasceranno qui sotto questi palazzi nuovi e quella che doveva essere una bella villetta a monte si è trasformata in una gettata di cemento a valle ovvero sotto i piloni e quindi in uno spazio assolutamente inidonio per realizzare un'area verde attrezzata tra l'altro di dimensioni ridotte e a fruibilità praticamente zero il Movimento 5 Stelle tira poi in ballo un presunto conflitto di interesse lo diciamo senza alcun timore l'imprenditore in questione risulta anche nella lista dei finanziatori della campagna elettorale del sindaco era già accaduto in passato con il direttore generale del comune adesso abbiamo l'imprenditore che prima finanzia la campagna elettorale del sindaco poi presenta sul tavolo dell'aggiunta delle proposte di varianti urbanistiche che l'aggiunta approva De Plano tutta questa operazione è costata all'imprenditore appena 516 euro ovvero una piccola sanzione amministrativa per aver evidentemente cominciato i lavori senza le preventive autorizzazioni una sanzione che ha sanato il tutto e la cittadinanza campobassana si trova adesso senza uno spazio verde attrezzato e con un parcheggio in più il rischio cementificazione è alto e noi ci opporremo continuano i grillini non abbiamo elementi di dettaglio ma l'aria che in questione dove è stata realizzata lì sotto in prossimità dei piloni quindi uno spazio assolutamente angusto e antiestetico molto probabilmente sarà interessato da ulteriori edificazioni di strutture che andranno a collegare forse nuovi percorsi pedonali che andranno ad aggiungersi alla soprelevata quella del terminal con la speranza che non facciano la stessa fine che non siano ulteriori opere incompiute che restino per decenni sul gruppone dei campobassani noi sicuramente lunedì saremo contrari a questa riclassificazione dell'area riclassificazione che temiamo che passi in maniera abbastanza liscia e valuteremo chiaramente tutti gli aspetti e eventuali anomalie eventuali irregolarità procedurali che sono state fatte e ci riserviamo di ulteriori opportuni azioni E immediata è arrivata la replica alle dichiarazioni del Movimento 5 Stelle da parte del sindaco Antonio Battista in assenza di argomenti politici ha scritto in una nota gli attivisti del gruppo consigliare si buttano sulla denigrazione e sull'offesa gratuita e personale speculando, ha aggiunto il primo cittadino di Campobasso anche su fatti largamente conosciuti come il finanziamento di soggetti privati a favore delle campagne elettorali ampiamente previsto e caldeggiato dalla normativa in vigore io stesso, ho continuato Battista ho pubblicato i nomi di chi ha sostenuto la mia campagna elettorale in ossequio a condivisi principi di trasparenza il sindaco ha parlato di atti legittimi e regolari adottati dalla giunta comunale il favoritismo, ha detto ancora riferendosi ai grillini si concretizza secondo gli speculatori della politica quando si decide di spostare di pochi metri una zona a verde destinando l'altra a parcheggi di cui Campobasso ha bisogno e facendo diventare il tutto di proprietà pubblica del comune caricandone la manutenzione sul privato se si sono mai verificati i favoritismi ha concluso Antonio Battista è bene che il dibattito si sposti nelle opportune sedi giudiziarie certo non mi farò intimidire da chi in questa città vuole che tutto resti fermo e immobile la CGL si prepara per la conferenza nazionale a Roma a settembre a Campobasso all'Hotel San Giorgio oggi incontro di organizzazione territoriale dal titolo contrattare per includere, partecipare per contare hanno partecipato i delegati ha introdotto i lavori il segretario regionale del sindacato Sandro del Fattore è intervenuto Lorenzo Mazzoli della CGL nazionale allora sentiamo cosa ha detto il nostro obiettivo è quello di ridiscutere la nostra organizzazione in profondità portare i cambiamenti necessari e lo facciamo attraverso quelli che per noi sono i quattro punti prioritari il primo punto è questo della contrattazione inclusiva così l'abbiamo definita cioè noi abbiamo un problema di crisi della rappresentanza in termini più generali ma ce l'ha anche il sindacato il secondo punto è la democrazia e la partecipazione un terzo punto sono le nostre strutture sul territorio che diciamo una cosa molto secca vogliamo sburocratizzare e degerarchizzare l'organizzazione perché un'organizzazione complessa di per sé porta ad avere strumenti anche complessi nella sua gestione l'ultima questione è la formazione il quarto punto diciamo così che per noi è decisivo e prioritario noi pensiamo di svilupparla su due terreni su quello identitario di essenza di appartenenza soprattutto pensato verso le nuove generazioni l'altra invece è dedicata all'organizzazione in termini più generali perché abbiamo bisogno di sviluppare competenze rispetto alle nuove sfide si è tenuta a Campobasso la cerimonia di intitolazione di un'area pubblica in prossimità di via Scardocchia alla memoria di Aldo Impallomeni artista molisano a proporre il progetto le consigliere Marilina Niro e Adriana Izzi della passata amministrazione di Bartolomeo la cerimonia è avvenuta alla presenza del sindaco Antonio Battista c'erano inoltre l'assessore alla cultura Emma De Capo alla critica d'arte Silvia Valente autrice del libro su Aldo Impallomeni i figli Ciro e Rossana e un nutrito gruppo di familiari e amici a scoprire la targa la moglie di Impallomeni la signora Emma Aldo Impallomeni ha dipinto per oltre 40 anni ritraendo spesso luoghi e paesaggi del Molise molte sue opere sono presenti in collezioni pubbliche molisane e nazionali A Isernia domani mattina prenderà il via la tradizionale Fiera delle Cipolle diverse le novità e le iniziative in programma sentiamo ancora Sergio Di Vincenzo diverse le novità in programma per la Fiera delle Cipolle di Isernia l'area a disposizione dei circa 270 espositori e commercianti attesi in città è stata allargata e comprenderà tutta via Giovanni XXIII via Veneziale, via Umbria, via Abruzzo, via Lombardia e via Piazza Michelangelo previsti anche mercatini e degustazioni di un prodotto che di recente ha ottenuto anche un importante riconoscimento il ministero ci ha riconosciuto quale la cipolla di isegna proprio prodotto agroalimentale tradizionale italiano questo è un marchio che potremmo spendere nel corso degli anni con una buona programmazione e quindi è un marchio che ha solo isegna quindi solo la cipolla di isegna sperando che anche i giovani si addendrino in questa attività imprenditoriale che reputo importante visto che la Fiera delle Cipolle fosse la più antica d'Italia in occasione della fiera un treno speciale promosso dall'Associazione Le Rotaie porterà da Sulmona circa 300 persone in campo anche la Proloco diverse le iniziative organizzate per la due giorni di festa ci sarà all'auditorium della mattina una mostra fotografica su fotografie realizzate con le lastre al bromura quindi roba primordiale della fotografia il 28 sempre nell'auditorium ci sarà un convegno che riguarderà le cipolle in cui interverranno personaggi esperti quindi agronomi e professori universitari i quali parleranno proprio dell'importanza della cipolla e della nostra tradizione della cipolla poi il 28 a sera ci sarà nella piazza da distante Ignazio Silone quindi piazza Michelangelo ci sarà un concerto di una cover band dei nomadi ci sarà poi sempre nella piazza una specie di fiera di mostra di artigiani locali poi il 29 ci sarà sempre questa mostra di fotografica all'auditorium che è molto bella che dovrebbe essere visitata e la sera c'è una manifestazione teatrale con ingresso a pagamento però con cifre molto basse una commedia scritta da un ragazzo di Isernia in dialetto Isernino un momento saporito e ricco di novità Campobasso esperti del settore carni e della ristorazione a confronto ci dice di più in questo servizio Valeria Farina le nuove frontiere del gusto tra sapori speziati ed altri più tradizionali tipici della cucina italiana tra arrosti, soffritti e grigliate di carne a Campobasso sono stati presentati nuovi ingredienti e composti per i ristoratori e operatori del settore della carne un momento all'insegna del gusto che ha fatto scoprire presenti anche nuove tecniche di preparazione e di cottura di secondi piatti veloci e gustosissimi Oggi un appuntamento col gusto ricco di sapori e di novità Sì, sì, esatto abbiamo qui lo chef Antonio Fazio della Pagani che è un tecnico che viene mensilmente a visitarmi per poi andare dai macellai a proporre e a realizzare dei preparati che appunto qui in questo momento si accinge ad eseguire Il settore culinare, il settore del gusto è un ambito in continua ascesa tante le novità tante insomma le nuove invenzioni del settore quali sono le tendenze per quest'anno? La gastronomia la gastronomia c'è una trasformazione soprattutto nel settore macelleria perché ecco la massaia magari non ha più tempo per cucinare quindi vuole trovare qualcosa di già pronto ed ecco i preparati di carne e addirittura le cotture che con Cristofaro appunto che vuole spingere questi forni della Razional E dunque la cucina italiana ambita in tutto il mondo si reinventa all'insegna della praticità dell'economicità anche del tempo e delle nuove esigenze delle casalinghe di chi mangia e di chi cucina Sì, sì esatto vabbè la cucina italiana diciamo che non ha rivali non ha rivali però ecco sta cambiando il modo di mangiare e quindi bisogna adeguarsi il macellaio si sta adeguando come anche le salumerie che stanno aggiungendo nei loro punti vendita forni e preparati in carne pronti a cuocere Tutto pronto a San Martino in Pensilis dove domani si svolgerà la prima festa dei comuni del Basso Biferno La manifestazione prima di una serie di eventi è patrocinata dall'Unione dei Comuni e organizzata dall'Associazione Moliset La festa si aprirà alle 18 con la sfilata dei vari cortei storici in serata ci saranno spettacoli teatrali e degustazioni di prodotti tipici con un originale street food Ogni comunità presenterà il meglio della propria cultura e delle tradizioni attraverso iniziative condivise un'occasione per iniziare nel migliore dei modi l'estate stare insieme e soprattutto valorizzare i piccoli centri basso molisani Successo per i corsi per barman e sommelier organizzati a Termoli e Campobasso dall'Associazione Professionale Aspi oltre 100 i partecipanti che hanno condiviso il percorso formativo e si sono ritrovati per la festa di fine anno sentiamo Fabrizio Occhio Nero Per passione o per intraprendere un nuovo lavoro sono stati oltre 100 gli iscritti dei corsi per sommelier e barman organizzati dall'Aspi a Termoli a Campobasso un percorso formativo che ha coinvolto persone di ogni età grazie all'impegno dei responsabili dell'associazione professionale a Termoli un momento di condivisione organizzato al termine dei corsi di quest'anno Un anno di attività qui in Molise un anno di corsi di sommelier oggi è anche finito il corso di barman che organizziamo tantissimi soci tante persone entusiaste del nostro lavoro e tantissime persone che grazie a noi trovano lavoro sia nel mondo del vino che anche nel mondo del bar quindi una bellissima festa con tanti soci i corsi sono stati articolati in lezioni teoriche e pratiche che hanno permesso di acquisire conoscenze e competenze ci si avvicina al mondo della sommellerie per passione per prima da clienti per poter capire al meglio quello che andiamo a bere e a consumare come clienti nei vari locali poi magari ci si appassiona un po' di più si vuole capire sempre di più il prodotto vino e ci si avvicina a questa professione perché è una vera e propria professione entusiasti partecipanti questo corso è stato molto interessante perché ti aiuta a capire quello che mangi quello che bevi soprattutto e a bere sicuramente con coscienza e conoscenza l'esperienza in Aspi è stata meravigliosa per entrambi abbiamo trovato una grande famiglia abbiamo trovato i compagni di viaggio con cui condividere meravigliose esperienze e bevute e bevute anche persone con cui condividere non solo la passione per il vino per la birra e per i distillati ma anche il buon cibo italiano e la nostra bella Italia un'esperienza decisamente interessante da consigliare a tanti dei miei amici soprattutto perché vuole conoscere un mondo così affascinante così interessante così particolare come quello del vino non posso che ringraziare alla fine di questa esperienza l'Aspi e i suoi rappresentanti della figura di Rudi e della figura di Celeste che hanno saputo veramente destare l'interesse e la passione per questo mondo che ripeto è estremamente affascinante trasmettere e condividere l'amore per gli animali sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole del senso civico comune e proporre iniziative per creare condizioni essenziali di convivenza formulare concrete proposte da sottoporre all'amministrazione comunale con questi scopi a Boiano è nato il comitato civico Yes We Can composto da diversi cittadini che per domani dalle 9 alle 13 e 30 con il patrocinio del comune organizzato nel borgo omolisano a Monteverde di Boiano la prima festa del bastardino diverse le iniziative in programma con la presenza di veterinari verranno fornite anche informazioni e ci sarà pure una sfilata canina verrà rilasciato un simpatico attestato di partecipazione a tutti per poter organizzare al meglio la manifestazione il comitato costituito senza scopo di lucro chiede un piccolo contributo di 3 euro una quota che dà diritto a una colazione a 6 zampe e la partecipazione alla sfilata è tutto termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti